Le organizzazioni sono croce e delizia per il tuo benessere. Sia nel caso in cui tu abbia deciso di avviare una nuova attività o tu sia già a capo di un'azienda centenaria, la cultura di questa organizzazione conta e conta molto. Una cultura organizzativa positiva è una calamita e attrae i migliori talenti. Invece una cultura tossica li fa scappare a gambe levate. In un'organizzazione di lavoro efficace, il Dipartimento di Risorse Umane va oltre i guadagni finanziari perché si concentra nel creare un ambiente di lavoro dove ai dipendenti piaccia trascorrere il proprio tempo, si sentano soddisfatti e motivati. Facendo questo si contribuisce a creare una compagnia ricca anche economicamente. Si parla molto, anzi moltissimo, di cultura organizzativa, però sembra che sia solo un esercizio semantico, lontano dal suo vero significato. La cultura organizzativa è definita dalle convinzioni, dai valori e dai comportamenti che pervadono e influenzano la tua organizzazione. Charles Handy la definisce come il modo in cui noi facciamo le cose qui in azienda e Edgar Shane afferma che l'unica cosa importante che i leader fanno è creare e gestire la cultura. In qualche modo stiamo parlando della psicologia di un'azienda, quindi del suo nucleo umano, con le sue credenze, valori, abitudini, tradizioni, atteggiamenti ed esperienze. La cultura organizzativa è un aspetto vivo di una compagnia, in continuo movimento. Questo rende difficile la sua definizione perché essa si evolve e si sviluppa man mano che tu e la tua azienda crescete. Ecco perché è importante sviluppare, promuovere ed alimentare una cultura organizzativa che rappresenti in ogni momento i valori fondamentali dell'azienda. Al contrario, se la cultura organizzativa viene lasciata senza un segno di identità o un tratto distintivo in cui i dipendenti possano riconoscersi, essa avrà senza ombra di dubbio un effetto negativo sull'efficienza del business. Eh sì, le organizzazioni come croce e delizia per il tuo benessere. Cosa significa questo? Cos'è che molto spesso le organizzazioni cercano di mettere a tacere? Chi non ha mai sentito, subito o sofferto, almeno una volta nella vita, gli effetti che le organizzazioni possono avere sulla nostra vita? Beh, quante volte avrai sentito frasi del tipo il lavoro mi sta uccidendo o non vedo l'ora di andare in pensione? Però non ci crederai, noi abbiamo molta esperienza in materia di organizzazioni sin dall'inizio della nostra vita. Se facciamo un passo indietro sino ai primi stadi della nostra vita possiamo facilmente renderci conto che già abbiamo avuto a che fare con le organizzazioni. La relazione madre-bambino o bambina è vita organizzativa, una diade, cioè un'organizzazione composta da due membri. Ma questa è un'altra storia. Per non parlare delle scuole, delle corporazioni, dei governi è in un contesto più ampio le tribù, i gruppi etnici e razziali, le nazioni, ovviamente le aziende e persino le organizzazioni nella politica e nel mondo del business in generale. Quindi, come dice Murray Stein nel libro Psyche at Work, quanto è profonda la portata degli effetti psicologici? Qual è l'influenza che queste organizzazioni hanno nella nostra vita interiore? Se iniziamo a rimuovere tutte le identificazioni e introiezioni con queste organizzazioni, possiamo chiederci c'è qualcosa come l'individuo? Cosa resta dell'individuo? Ebbene sì, in effetti qualcosa resta. Ciò che rimane è il nucleo dell'individualità di ognuno di noi, che è l'essenza della personalità. E sebbene arrivare a questa essenza ed avere un contatto con essa sia necessario per il nostro benessere, quanto è difficile e quanto sforzo e motivazione richiede, soprattutto all'interno delle organizzazioni di lavoro. Ecco, allora facciamo un salto nel mondo delle aziende adesso. Dicevamo che le organizzazioni sono croce e delizia per il tuo benessere e ci chiedevamo cos'è che molto spesso le organizzazioni cercano di mettere a tacere. Adesso abbiamo la risposta. È precisamente quella voce dentro di noi, ciò che ci rende unici e ripetibili. Ma perché? Bene perché questo tratto distintivo, la nostra firma unica, può sfidare il loro dominio e la loro autorità e rappresentare un pericolo per le organizzazioni. Ma c'è qualche possibilità che questa potente relazione tra l'organizzazione e l'individuo sia potenzialmente più fruttuosa e positiva per entrambe le parti? Possono le aziende far sì che questa relazione sia vantaggiosa per tutti e creare le condizioni per un tipo di attività eccellente e salutare? Come psicologo posso dire che le soluzioni a questa sfida possono essere varie e complesse. Manager, collaboratori e dipendenti a tutti i livelli dovrebbero costantemente formarsi e continuare ad imparare per rimanere pertinenti. In inglese la parola in voga è relevant e non perdere il contatto con un mondo che è oggi più che mai in continua evoluzione e cangiante. Mi riferisco non solo alla pertinenza del prodotto o del servizio di un'azienda ma anche alla pertinenza a livello personale. Qual è la rilevanza o che tipo di impatto ho come capo, come dirigente, come lavoratore o come membro del mio team? Pertanto il suggerimento che vorrei dare è quello di creare e promuovere uno stile di vita aziendale basato su una cultura dell'apprendimento costante e continuo. Qui in Inghilterra si sente spesso dire Every day is a school day. Quindi fornire gli strumenti in grado di creare opportunità di apprendimento e sviluppo garantisce che i membri dell'organizzazione raggiungano il loro pieno potenziale e diano voce alla loro unicità. Le organizzazioni sono croce e delizia per il tuo benessere ma impegnarsi nella vita organizzativa, formarsi dentro di essa ed avere le giuste opportunità per dare voce alla propria unicità può essere un'esperienza così affascinante, stimolante e gratificante che influisce sia sui risultati dell'azienda che sul benessere del lavoratore. Come dice Muran Stein può essere un peccato aver bisogno delle relazioni collettive e del coinvolgimento con il mondo organizzativo per crescere personalmente ed io direi anche professionalmente ed avere una vita piena e sana. In effetti è proprio questa esigenza che rende le organizzazioni così pericolose e allo stesso tempo così attraenti per l'individuo perché la partita più importante per il nostro benessere o un malessere psicologico è proprio quella che si gioca dentro le organizzazioni perché senza gli strumenti adeguati per capire per esempio le dinamiche di gruppo il lavoro in team, la leadership, come risolvere i conflitti sul lavoro o come comunicare in una maniera più efficace ed effettiva senza questi strumenti le organizzazioni umane sono piene di pericoli ed hanno il potere di sopraffarci e di distruggerci. Ricordi cosa dicevamo prima riguardo al fatto che spesso sentiamo dire questo lavoro mi sta uccidendo ma chiunque dentro la propria organizzazione di lavoro con i giusti strumenti di formazione e sviluppo del personale può trovare l'opportunità di rinascere di nuovo e questo può avere un effetto estremamente stimolante su tutti i livelli della nostra vita allo stesso tempo che l'organizzazione può crescere e cambiare in un modo più salutare a beneficio di tutti. Alla prossima! Ciao!